Ciao a tutti amici, benvenuti su Mantodia Italia, il nuovo canale YouTube dedicato interamente alle mantidi e al loro allevamento. In questo primo video passerò in rassegna quelle che secondo me sono le specie migliori per chi vuole iniziare ad allevare mantidi. In questa top 5 non ho considerato solo la facilità di allevamento, ma anche altri parametri come l'interesse estetico degli stessi animali. Per il quinto posto partiamo subito con una specie interessante e ancora non molto comune in Italia, l'Automantis scutigera. È una specie africana di appena 3 cm, quindi veramente piccola, appartenente alla famiglia degli Menopodidi, la stessa delle mantidi orchidea. Nella mia personale classifica questa specie ha superato i rivali più quotate, per così dire, per la facilità di allevamento ma soprattutto per la sua tipica danza. I giovani di Ottomantis infatti, di fronte ad esemplari della stessa specie, tendono a oscillare le loro enormi raptatori per segnalare la loro presenza. I maschi e adulti eseguono un rituale simile prima dell'accoppiamento, ogni tanto anche quando sono completamente soli, il che è particolarmente buffo. Una difficoltà per questa specie può essere l'allevamento delle neani di appena nate, che sono veramente piccolissime. Al quarto posto ho inserito le mantidi del genere Sphodromantis. Si tratta delle tipiche mantidi aggressive, trita tutto, mangiano senza limiti e sono molto grosse, anche se non sono tra le mantidi più lunghe, e sono decisamente facili da allevare. Tuttavia rispetto alle Ottomantis richiedono già una dieta molto più varia, vista la loro voracità, e soprattutto negli ultimi stadi sono suscettibili a problemi di muta. Quindi mi raccomando, quando vedete che hanno bozzelari gonfi e smettono di mangiare, alzate l'umidità verso sera anche su valori dell'80%, mentre in periodi normali può rimanere benissimo sul 55-60%. Un aspetto positivo di questa specie è che è estremamente prolifica e depone quindi oteche enormi e piene zeppe di uova. Un aspetto negativo è sicuramente la morfologia non proprio fantasiosa e l'aspetto alquanto banale, soprattutto per un allevatore con tante esperienze che ha già provato ad allevare mantidi simili. Per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle allobby delle mantidi, sono sicuramente una primissima scelta. Si tratta di mantidi facili da allevare, quindi economiche e anche facili da trovare in vendita. Il genere è africano, diffuso in tutta l'Africa, con presenze segnalate addirittura in Sardegna. Mimetismo perfetto, dimensioni enormi, cannibalismo assente e incredibile resistenza in tutti gli stadi. Grazie a tutte queste caratteristiche, il terzo posto se lo guadagna la Neodanuria bolawana. Questa mantide stecco ricorda molto la più comune popa spurca, che molti di voi sicuramente conosceranno, ma è ancora più facile da allevare. Inoltre è in assoluto una delle mantidi più grandi presenti in allevamento, con la femmina adulta che è in grado di superare addirittura i 13 cm. Purtroppo è ancora piuttosto rara sia in Europa che in Italia. Anche questa specie è di origine africana, come le altre due che ho descritto in precedenza. La Creobroter gemmatus, con le sue bellissime ali colorate, si guadagna meritatamente il secondo posto. Leggermente più grande dell'Otomantis, è vorace e resistente, oltre che face da allevare e da riprodurre. Essendo originaria delle foreste tropicali di Vietnam e Thailandia, conviene tenere l'umidità su valori un po' più alti delle specie che ho descritto prima, per evitare soprattutto problemi di muto. Questa è in assoluto una delle mie mantidi preferite. Occhio ai maschi che volano benissimo. Arriviamo dunque alla mia mantide preferita, oltre che alla prima che abbia mai allevato e riprodotto. La semplicissima Filocrania Paradoxa. In un rapporto facilità di allevamento, aspetto estetico, questa mantide è in assoluto la numero uno. Infatti il suo aspetto di foglia cartocciata affascina anche l'allevatore con più esperienza. Inoltre è divertente vedere crescere i vari esemplari con diverse varianti di colore e ammirare la tanatosi, cioè il fingersi morti, che a queste mantidi riesce veramente benissimo. Tutte le mantidi che ho elencato in questa top 5 possono essere mantenute a una temperatura casalinga, senza alcun bisogno di fonti riscaldanti e a un'umidità del 60%, tranne le Creobroter che, come ho già detto, avrebbero bisogno di un'umidità più alta. Tuttavia nei video futuri mi soffermerò di più sull'allevamento di ognuna delle singole specie che ho descritto oggi e quindi vi invito a iscrivervi al canale se è di vostro gradimento. Il video di oggi termina qui, spero comunque che vi sia piaciuto e adios, alla prossima! Grazie a tutti!